Speciale elezioni, interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche 2018, ormai imminenti il prossimo 4 marzo. Ritroviamo nostra ospite Eva Liberalato, candidata del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Castelfranco, della Castellana, parte della provincia di Treviso e poi anche parte della provincia di Venezia, Martellago, Scorsè, Noale. Questa è un po' la geografia del collegio. Eva Liberalato, torniamo a scuola. In questi anni si sono succedute riforme varie, riforme su riforme della scuola. Lo sappiamo, è inutile ripeterlo, insomma, agenzia fondamentale per lo sviluppo di ogni paese. Come dicevo, un po' tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi decenni hanno tentato di riformarla, ci hanno messo mano. Ecco, secondo lei e secondo il partito che rappresenta, i risultati sono stati adeguati? No, sono stati sostanzialmente disastrosi. Avevamo una scuola che era una delle eccellenze a livello mondiale e oggi ci troviamo invece con una struttura amputata in molte sue parti. Purtroppo sappiamo che con la riforma Tremonti e Gelmini la scuola è stata privata di quasi 8 miliardi in tre anni. Dal 2008 al 2011, 8 miliardi di risorse tolte alla scuola non sono poca cosa. Questo ha portato al taglio di 90.000 cattedre e ovviamente le conseguenze sono state importanti. Oggi i nostri ragazzi si trovano limitati nello studio di molte materie, sia a livello di monte ore a disposizione dell'alunno, sia per quanto riguarda proprio le materie studiate. Sono state tolte delle specialità importanti come la storia dell'arte, la musica, in un patrimonio culturale come quello italiano erano fondamentali, ma sono anche diminuite le ore di latino all'interno dei licei. Questo non deve accadere. Sappiamo che i tagli poi hanno portato anche a una diminuzione degli spazi per i ragazzi e a un aumento del rapporto insegnanti-alunni. Ci troviamo a far fronte alle famose classi pollaio, 30-35 alunni all'interno di una stessa classe, quando sappiamo che il numero ottimale sarebbe 22-20 quando c'è all'interno un ragazzo disabile. Ovviamente come possiamo pensare che un insegnante riesca a far fronte alle necessità e a dare a ogni allievo l'attenzione di cui ha bisogno per portare a termine il proprio ciclo scolastico? Non potendo esserci questo, perché non ci sono le risorse, abbiamo un tasso adesso di abbandono della scuola che è elevatissimo. E questo, oltre a essere triste, perché a livello umano i ragazzi non vengono formati, ha anche delle conseguenze poi a livello economico-sociale, perché i ragazzi non portano a termine il ciclo di studio, non potranno professionalizzarsi e ovviamente non possono accedere al mondo del lavoro. Rimangono nelle mani della malavita oppure si perderanno perché non hanno delle basi sufficienti con cui poter vivere. Ci sono stati anche dei tagli che hanno influito proprio nella struttura della scuola, anche le più recenti riforme. Invece di portare a un beneficio a livello scolastico hanno portato ancora a dei tagli. Le hanno quasi privatizzate, ma non è possibile privatizzare un istituto così importante come la formazione di futuri cittadini. E quindi bisogna tornare a dare più risorse alla scuola? Assolutamente, bisogna dare più risorse e bisogna avere più rispetto per le varie categorie che lavorano dentro alla scuola. Parlo in particolare di dirigenti scolastici che oggi sono investiti di ruoli e responsabilità che sono troppo pressanti. Abbiamo un dirigente scolastico che doveva occuparsi di un solo istituto e farlo bene, si trova invece a dover far fronte alle emergenze di anche due o tre istituti scolastici. Ha delle responsabilità enormi anche in materia di sicurezza. Purtroppo sappiamo che gli istituti scolastici non sono a norma, sono stati creati negli anni 60, 70 e molti di quelli oggi occupati non erano neanche destinati ad essere aule per gli allunni. Il responsabile, se accade qualcosa all'interno di questi istituti, è il dirigente scolastico. Deve essere sgravato da questo. La responsabilità deve essere riportata in capo all'ente proprietario della struttura, quindi alla scuola e bisogna stanziare dei fondi perché vengano messi in sicurezza. I nostri allievi, se succede qualcosa, abbiamo già visto cosa succede, rimangono schiacciati delle volte dentro alle scuole. Ma contemporaneamente, per altro verso, bisogna anche limitarle le prerogative del dirigente scolastico che addirittura ha la possibilità, quando si va in emergenza e non è qualificata specificamente quale sia questa emergenza, di procedere alla chiamata diretta degli insegnanti. Quando abbiamo a monte delle graduatorie un precariato che dovrebbero essere messi in ordine e noi ricorriamo alla chiamata diretta. Questo non è ammissibile. Poi bisogna investire risorse anche a livello di docenza. Questi docenti che sono, come dicevo prima, precari e vengono assunti a settembre per essere licenziati a giugno. E a discapito di chi? Sempre dell'alunno. Come fanno a portare a termine un progetto che dovrebbe durare cinque anni, tre anni, a seconda del ciclo di studi? Il ragazzo si trova sempre ad avere un'educazione frammentata a seconda di quale sarà l'insegnante e sempre fortunato se l'insegnante riesce a portare a termine l'intero anno scolastico perché molte volte ci sono supplenze oppure a inizio anno non siamo neanche pronti con tutti gli insegnanti passano uno o due mesi prima che inizi il vero e proprio anno scolastico. Bisogna dare risorse perché gli insegnanti si devono formare e non si è mai sentito che debbano farlo a spese loro. Se io all'interno di un'azienda, dico al mio dipendente, dovresti imparare a utilizzare un nuovo pacchetto software non ci penso minimamente di dirgli farlo a spese tue fuori dall'orario di lavoro lo farà a spese mie e così deve essere all'interno della scuola i nostri ragazzi hanno il diritto di imparare le tecnologie come avviene nel resto d'Europa e nel resto del mondo e gli unici che possono insegnarglielo a tutti in maniera uguale sono gli insegnanti che quindi devono essere formati e devono essere retribuiti per questa formazione che devono andare a fare necessariamente. E poi abbiamo il personale ATA, l'amministrativo tecnico e ausiliario, le scuole non vanno avanti se non ci sono le segretarie gli istituti tecnici se non ci sono i tecnici che insegnano come utilizzare le strumentazioni eccetera e ci servono anche le persone che facciano le pulizie eccetera e questi sono posti di lavoro che sono stati appaltati dai governi precedenti all'esterno con costi maggiori ovviamente per lo Stato e con risultati minori perché vediamo molto spesso che le nostre aule non sono pulite non abbiamo numeri di tecnici sufficienti quindi dobbiamo investire risorse in questo e facendo questo aumentiamo anche i posti di lavoro le soluzioni ci sono se vogliamo portarle avanti. In una battuta questi tagli, questi disinvestimenti che lei lamentava hanno portato anche a una squalificazione sociale della scuola abbiamo assistito anche di recente anche nel nostro territorio a aggressioni di insegnanti, di docenti insomma al di là del caso singolo però è sintomatico insomma di un valore sociale che la scuola ormai ha e la figura del docente che ne incarna insomma ha ormai perso. Certo abbiamo delle grosse problematiche all'interno della scuola sia appunto per la sfiducia e la disincentivazione nella figura del docente ma anche perché abbiamo dei fenomeni di bullismo che sono molto forti e dobbiamo approntare dei rimedi perché questi giovani ragazzi che si approcciano a fenomeni di bullismo così grave diventeranno i futuri uomini e cittadini dei nostri stati e del nostro stato e dobbiamo intervenire infatti il Movimento 5 Stelle prevede nel suo programma scolastico che vengono anche inserite delle figure di supporto agli insegnanti che ci siano degli psicologi, che ci siano delle persone, dei tecnici specialisti preparati che possano aiutare i ragazzi in questo senso e mi permetta solo una chiusa perché se ne è parlato poco ma è un argomento che in Veneto ci tocca tantissimo a livello diretto di noi cittadini che riguarda le risorse per la scuola e parlo delle scuole paritarie sappiamo che stiamo investendo poco nelle scuole statali perché i tagli sono fermi da tantissimi anni però investiamo soldi per le scuole paritarie, per le scuole private questo non è corretto la scuola privata deve esistere è costituzionalmente garantito il diritto di associarsi di creare degli enti che possano poi formare gli studenti ma non possono farlo a spese dello Stato ma esiste un'eccezione che per noi è importante sono gli asili e le scuole materne purtroppo a livello statale non abbiamo risorse sufficienti per far fronte alla richiesta e le donne hanno bisogno di andare a lavorare ne hanno bisogno non solo come affermazione personale ma per il bene della collettività perché quelle donne che oggi non lavorano non prendono parte alla formazione del loro piano previdenziale e andranno in pensione sarà meglio che abbiano contribuito quindi sarà bene che vadano a lavorare per pagarsela poi la pensione ma per farlo hanno bisogno di strutture che educhino i loro figli e badino i loro figli mentre loro vanno a lavorare allora questa è l'unica eccezione che il programma del movimento prevede sovvenzioniamo le scuole materne e tagliamo invece le altre scuole per far sì che ci siano risorse e scuole uguali per tutti prima le scuole pubbliche appunto dagli diciamo dall'elementare salvando le materne e l'asile che qui nel nostro territorio a condizione particolare come ricordava Eva Liberalato insomma svolgono proprio una funzione di supplenza abbiamo un minuto conclusivo siamo ormai nell'imminenza possiamo dire dell'apertura dei seggi delle urne allora un appello al voto Eva Liberalato dobbiamo votare dobbiamo smettere di lamentarci di trovarci nei circoli di trovarci in salotto di trovarci al bar e continuare a dire che le cose non vanno bene abbiamo capito chi ha governato negli ultimi anni e abbiamo capito cosa non è andato in questi ultimi anni non possiamo continuare in questo modo dobbiamo arrivare a una svolta dobbiamo cambiare le cose e dobbiamo andare a votare per fare questo votate il Movimento 5 Stelle e vediamo se riusciremo a far cambiare grazie a Eva Liberalato candidata appunto nel Movimento 5 Stelle nel collegio della Camera dei Deputati collegio uninominale della Castellana e anche di parte della provincia di Venezia grazie per essere stata nostra ospite grazie a tutti voi vi rinnovo l'invito con i prossimi appuntamenti dedicati alle elezioni politiche del 2018 sempre sui canali di Veneto 1 speciale elezioni interviste e commenti sulle prossime elezioni con i prossimi appuntamenti